ecco qua come tanti mi avete chiesto noi abbiamo questo ford custom passo lungo e all'interno dobbiamo un 4 più due cani ora vi faccio vedere come ho fatto il letto per i ragazzi all'interno abbiamo un letto che si allunga e diventa un letto matrimoniale di un metro e 10 un metro e 15 dove dormiamo noi adulti più i due cagnolini poi a questa parte abbiamo un lettino che ci dorme uno dei nostri ragazzi un altro lettino che adesso vi faccio vedere come lo abbiamo adattato questo lettino che abbiamo trasformato in letto è un sdraio semplice che abbiamo acquistato alla decathlon al prezzo di mi pare 25 26 ora vi faccio vedere che modifiche abbiamo chiuso rimane così avvolto fatto su e non dà fastidio anche quando si mangia anche quando si mangia non da particolarmente fastidio calcolate che qui c'è il tavolo due seduti di qua due seduti di qua e quindi non dà fastidio così è arrotolato quindi non dà fastidio abbiamo fatto queste chiusure si srotola ok abbiamo fissato con dei collari non so se si vedono ma dopo ve li faccio vedere in questi collari qua abbiamo fissato con delle viti auto perforanti al telaio io ho messo tre collari uno due tre e devo dire che tiene questi ganci qua si chiamano dei golfari dove ci andremo a cucurare con moschettoni e sono andato attaccare ai montanti uno due tre quattro al montante abbiamo fatto un foro tipo questo messo dei rivetti quelli filettati abbiamo stretti e quindi si crea una sorta di filetto dove siamo andati a evitarci questi qua allora per l'installazione basta semplicissimo basta infilare questo moschettone qua nei golfari che abbiamo così molto semplice aggancio una due ecco montato il lettino però non è finita qua e nel momento in cui il bambino si corica fa questo effetto qua e non è il massimo allora abbiamo sfruttato le loro staff e queste qui che vengono messe qua sotto per praticamente tensionare il lettino e vengono montate in questa maniera inserisce così se la staffa queste qui che io le lascio sempre montate queste io le lascio sempre montate si inserisce ok perfetto così rimane agganciato nel momento in cui il bambino sale su loro vanno in tensione quindi non si muovono neanche più ok le abbiamo montate tutte quante e a questo punto il letto molto più stabile momento abbiamo due lettini letto basso che vi faccio vedere come sta coriccato uno dei ragazzi lui è alto si è alto un metro e venti uno e uno e 34 ok per vedere come sta emesso logicamente c'è il cuscino e tutto quanto però sta bene ok quindi uno si coricherà qua e l'altro su di sopra quindi viene una sorta di letto a castello loro si divertono anche a coriccato ecco qua mi sento molto più a viaggio nel mio letto ok prova un po' muoverti ok dondola al camper ma rimane molto robusto ora chiudiamolo così facciamo vedere come si chiude lo vuoi pure tu? quindi abbastanza anche veloce per noi chiuderlo no prima le staffe sotto devi sganciare ok una semplicità no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.